Ben trovati, ultima serata di Atto Unico, la resegna di teatro all'aperto per attori professionisti che si tiene a noto. Lo scenario è quello incomparabile di Piazza Municipio, siamo alle spalle, Largo Landolina, a due passi da Palazzo Nicolaci. E' con noi e sarà protagonista dell'ultimo spettacolo che chiude la rassegna Pietro Montandon, Maruzza Musumeci di Andrea Camilleri. L'elemento fondante della serata è proprio questa, la sicilianità. Pietro Montandon, catanese, ma le origini lo possiamo senz'altro dire, sono netine. Un testo scritto da Andrea Camilleri e ci sarà anche una sorpresa perché per la nona edizione Atto Unico premierà un artista e quest'artista per continuare quel legame di cui prima è proprio un artista siracusana, Antonietta Carbonetti. Pietro Montandon e il teatro, un amore a prima vista. A vent'anni il teatro stabile, nel 1976 il debutto teatrale, hai lavorato con tantissimi registi, hai lavorato anche per il cinema. Ma io ho detto la sicilianità di Pietro Montandon, stasera a Noto, nella sua Noto dopo Catania, o prima metti pure Catania e dopo Noto, ma Andrea Camilleri un testo siciliano, Maruzza Musumeci. Sì, diciamo che la sicilianità è una meravigliosa sindrome che ci portiamo dietro. Io ho avuto la fortuna di lavorare per otto anni con una compagnia straniera che era Moomens, anzi ho girato il mondo praticamente, mi sono portato dietro la mia sicilianità, che si manifesta poi nei tempi, nel gusto, nell'energia, nella comunicativa, quest'idea della condivisione. Dopo questi otto anni in cui sono stato in silenzio, mi sono in qualche modo voluto mettere in discussione e ho deciso di fare un spettacolo da solo. Mi ero innamorato perdutamente di questo libro di Camilleri che ho comprato nel 2008, il primo gennaio 2008, e ho notato nel libro tutte le caratteristiche della sicilianità, del gusto, dell'ironia, del tipico nostro, partendo dalla mitologia, perché il testo, il libro ha delle radici profondamente mitologiche, racconta il mito, racconta delle sirene, ma è una mitologia molto ruspante perché è coadiuvata da un amore con un personaggio estremamente terragno che è questo Ignazio Manisco, che il mare non lo vuole sentire manco nominare, come dice lui, e si sposa, lui si sposa con questa sirena e nasce questa storia d'amore meravigliosa, delicata, molto poetica, e da questa unione nascono quattro figli di cui due sono particolari perché uno è innamorato delle stelle, del firmamento, infatti diventerà un astronomo, e l'altro è un'altra sirena, infatti si chiama resina, l'anagramma di sirena, insomma, e quindi ci sono tutti gli elementi poi in realtà, perché c'è il cielo, la terra, l'acqua, il fuoco che è rappresentato dall'ulivo, dall'ulivo saraceno che nella simbologia mitologica è un simbolo anche del fuoco e da un ulivo Ulisse praticamente costruì il letto di nozze per lui e Penelope, ecco. Leggendo questo libro io mi sono calato in questa sicilianità, questa sicilianità peraltro raccontata da mia madre, raccontata da papà, dai marinai che c'erano a Cizza, perché io frequentavo a Cizza, a Cicrezza, a Cicastello, e l'idea è stata quella di seguire la nota finale del libro in cui lui dice che questa storia fatata, in realtà è una favola, la raccontava soprastante dei contadini di suo nonno, che finito di lavorare si metteva lì e raccontava queste storie e lui poi l'ha rimpolpato chiaramente, ma in qualche modo io ho voluto seguire quest'idea di Minico, in qualche modo io sono questo Minico, questo cuntastorie che arriva e racconta questa storia semplicemente al pubblico. Io continuerei con la sicilianità, ma tornando indietro di 40 anni o forse ancora di più. Turi Ferro, Umberto Spadaro, Ida Carrara. Ida Carrara, ma poi c'erano altri, c'era Maria Tolu, c'era Franca Manetti, che erano le sorelle di Ida Carrara, che erano attrici meravigliose, facevano tutti quei caratteri, quelle parti di contorno meravigliose che poi erano la colonna portante dello spettacolo. Poi c'era quell'arte magnifica di Turi e Ida, andavano a volte a braccio. Io ho passato i primi anni della mia vita in quinta a vedere questi mostri, mi sono portato dietro, mi porto dietro quello che mi hanno insegnato, anche semplicemente guardandoli. E poi ne sono venuti altri, a parte, voglio dire, Umberto che era con Turi, era uno spettacolo. Io mi ricordo, a fare questo piccolo aneddoto, facevamo Cittadino un Ofrio con Turi e c'era Umberto e c'era una scena in cui erano loro due da soli in scena e ogni sera era una cosa diversa perché andavano a braccio e non hai idea che cosa si inventavano tutte e due. Io ogni sera era da morire dalle risate perché era così. E quindi uno che nasce in teatro con questi mostri sacri, per forza di cose, ti porti dietro poi questo gusto, questa gioia anche di recitare, di comunicare al pubblico questa voglia di divertirsi. Ma anche facendo il drammatico, per non parlare di Tuccio, per non parlare di Pippo, Pattavine, per non parlare del povero Marcello, che mi chiamava Petruzzo. E proprio lo scorso anno, a chiusura di Atto Unico, l'ottava edizione, è stato Marcello Perracchio premiato in questa città, scherzava lui su quel modo suo di presentarsi quando c'erano le scene del commissario Montalbano e diceva non vorrei essere ricordato solo per questa interpretazione perché ho fatto tantissimo teatro e come te, anche lui ha avuto questi inizi allo stabile di Catania proprio con Turi Ferro, Umberto Spadaro, Ida Carrara e tantissimi altri artisti. 40 anni dopo la sicilianità, come Pietro Montandon vive la sua Sicilia anche artisticamente? Beh, la vivo con grande orgoglio. Io sono siciliano, sono orgoglioso di esserlo, sono onorato di esserlo. Credo che sia un privilegio perché vivendo all'estero, vivendo in giro, confrontandomi con altre culture, con altri modi di pensare, la ricchezza che noi abbiamo non ha uguali, ma sia da un punto di vista culturale, noi, diciamo, i più grandi scrittori italiani sono nati in Sicilia, è inutile che mi metta a fare qui un elenco, ma insomma, da Verga, Pirandello, Consolo, Bufalino, Vittorini, Brancati, potremmo continuare. Potremmo continuare, no? Ma a parte quello, è proprio l'idea del miscuglio delle culture che noi ci portiamo dietro, greca, bizantina, spagnola, francese, no? Araba, cioè... Non ci siamo fatti mancare nulla in tema di Denomenal Didi. No, no, siamo stati nella taverna del Mediterraneo, in qualche modo, no? E ci portiamo dietro tutto questo. E questo io lo sento profondamente. Ieri, ieri, e concludo, ho fatto lo spettacolo alle 5 del mattino, all'alba a Segesta. Bellissimo, il teatro di Segesta. E vi assicuro che è veramente un'emozione. Siamo veramente in alto. È un'emozione. Giù sembra tutto piccolo, sembrano tanti giocattolini, anche i trenini che passano. È un privilegio, veramente. Grazie Pietro, siamo alla fine del nostro quotidiano appuntamento. Maruzza Musumeci, di Andrea Camilleri, con Pietro Montandon. Grazie a tutti, l'appuntamento è per domani. Grazie a tutti, l'appuntamento è per domani.